ciao a tutti buonasera buona domenica pomeriggio bene oggi faremo una lezione un po' diversa da quello che siete abituati a vedere nei miei profili facciamo una lezione di yoga ma uno yoga dinamico un power yoga uno yoga rivisto praticamente andiamo a fare lo yoga le asana abbinate al fitness quindi è una cosa innovativa nuova dove appunto si sarà ormai abbiamo un problema di connessione spero che riuscite a vedermi tutti datemi un cenno che vi collegate così capisco capisco se ci siete spero di sì spero di sì ma non vi vedo ecco ecco qua bene benissimo bene 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 vi comincio a vedere o meno male c'è sempre l'ansia della connessione che non che va via poi soprattutto in questo periodo vabbè lo sappiamo insomma le veri sono super intasate quindi è chiaro che che ci abbiamo dei problemi ogni tanto infatti mi scrivete non vedo più niente non sono riuscita a finire la lezione perché mi si è bloccato tutto spero che questo non accada comunque in qualsiasi momento speriamo che riuscite a farlo in diretta insieme che un'altra cosa ma in qualsiasi momento insomma potete rivederlo il video e comunque rifare la lezione che non guasta non è male perché queste sono lezioni anche un po' particolari quindi rifarle è molto molto significativo è molto importante bene allora tra 30 secondi io penso che che possiamo cominciare a lavorare partiamo la musica rimarrà soft come la sentite perché dovrete chiaramente sentire anche la mia voce e che accompagno appunto nel nel percorso di tutte le asana e quindi dobbiamo comunicare assolutamente comunicare bene allora ci mettiamo intanto in posizione comoda sul tappetino cerco di di stare in una posizione dove appunto riuscite a vedermi tutti ok ci mettiamo in posizione comoda e respiriamo respiriamo profondamente ispiro con il naso ancora ispiro e fuori l'aria e ancora due in s in s ora ispiro fuori l'aria spingo il braccio sopra la testa ispiro fuori l'aria torno l'altro braccio spingo e torno e torno apro bassi le spalle ispiro fuori l'aria mento allo sterno e torno apro fuori l'aria apro apro ancora uno apro e chiudo le braccia in posizione della preghiera ispiro fuori l'aria guardo in alto spingo torno giù l'intorno sterno fuori l'aria e ancora ispiro fuori l'aria spingo e torno giù apro apro le braccia gambe tese in avanti dritta la schiena ispiro fuori l'aria scendo in crunch tienilo in crunch attivo l'addome ancora ispiro fuori l'aria scendo vai ancora i movimenti ragazzi sono fluidi anche come la respirazione dinamici in s vai in s torno in s braccio dietro lo sguardo si con la mano torno fuori ancora bello attivo l'addome fuori torno fuori l'aria e torno scendo 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 fuori l'aria braccia dietro tese mi allungo cresco allungo bene le braccia attaccate alle orecchie ispiro fuori l'aria e vengo su in crunch attacco bene la lombare al pavimento risucchio l'ombelico scendo ispiro fuori l'aria salgo vai ancora scendo ispiro mi allungo fuori l'aria salgo Ancora uno E sto qui Apri Torno su Sto su in crunch Tienilo qua Tienilo qui E torno qui Ispiro Curvaci dietro fuori l'aria Ancora Fuori l'aria E ancora uno E fuori l'aria Bene Torno giù di nuovo Cambio la posizione Altrimenti non riuscivi a vedermi Scendo Mi allungo Torno su Sto su Tienilo Attivo l'addome Gambe tese Tienilo in posizione Ispiro E scendo lento Torno giù Ispiro fuori l'aria Salgo Gambe a 45 Qui creati Tienilo 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 Torno giù Ancora Ispiro Mi allungo fuori l'aria Torno su Tienilo qui E scendo lentamente E mi allungo ancora Torno su in crunch Vai ancora Attiva l'addome Alterna le gambe Sto su con l'addominale Morbido il collo Il movimento è fluido La respirazione è come movimento Fluida e costante Profonda Vai Ispiro Fuori l'aria Ispiro Fuori l'aria E ancora Vai Quattro Tre Due Uno Sto qua Tienilo E di nuovo Salgo Su Apro le braccia Sto su Su in crunch Tienilo a 90 gradi Tienilo qua Scendo lento Non tocco Non tocco a terra Tienilo Torno su a 90 gradi Spiro Scendo lento Non tocco a terra Tienilo E torno su a 90 gradi Ispiro l'ultimo Scendo Tienilo qui E mi allungo Respira Tre respiri profondi Mi allungo Morbido il collo Le spalle Uno Due Tre E salgo su Andiamo in quadrupedia Le gambe sono All'altezza delle spalle Del bacino Idem le braccia Ok Ispiro Punto i piedi Attenzione Salgo Su Vai Salgo Spingo bene le braccia La testa tra le braccia Scendo Scivolo giù Salgo in cobra Torno Scendo Torno su Di nuovo Punto i piedi Stai la testa in giù Spingo Scendo lento Scivolo Salgo in cobra Tienilo qui Scendo Scivolo Vai ancora uno Spingo Vai ancora torno Scivola So Attenzione Scendo piano Scendo piano E salgo su Il plank Tienilo qui Tieni il plank Respira Tienilo Tre Due Uno Apro e chiudo Vai Vai Apro e chiudo Forza Tieni il plank Tre Due Uno Vai Apro e chiudo Per otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Qua Canna testa in giù Scendo di nuovo Scivolo Salgo in cobra Scivolo giù E torno in quadrupedia Respira Glutei Sui talloni Spingo Schiaccio la schiena E Spingo le braccia Tese in avanti Respira Respira Recupera Tre Respiri profondi Due Tre E torno su In quadrupedia Attenzione Ispiro fuori l'aria Sulla gamba Sinistra Morbido il collo Le spalle Non apro Il bacino Sono qui Tienilo qui Vai Vai Lento Controllato Il movimento È fluido La respirazione È fluida In S Vai In S Quattro Tre Due L'ultimo Qua Tienilo Attiva l'addome Sull'altro braccio Il braccio opposto Tienilo qua Tre Due Uno Chiudo Apro Dai Respira Fuori l'aria Fuori l'aria S Tre Due Uno Tienilo qua Sto qui Quattro Tre Due Uno Torno Scivolo giù Glutei sui talloni Spingo Tre respiri profondi Due Tre Torno In quadrupedia Morbido il collo La testa in posizione neutra Attenzione L'altra gamba Tienilo qua Sto qui Risucchia l'ombelico Schiaccia bene La schiena Vai Spingo Non è uno slancio Fluido il movimento Fluida la respirazione In S Vai In S Vai Ancora Forza Quattro Tre Due Uno Tienilo qui Isometria Morbido il collo Alza il braccio opposto Tienilo Parti Mi chiudo Torno Mi chiudo Torno Va Quattro Respira Fluido il movimento Fluida la respirazione Due Uno Tienilo qua Quattro Tre Due Uno Scendo Vai Giù 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 Tre respiri profondi Schiaccio bene la schiena Spingo Spingo le braccia In avanti Respira Stacco I glutei dei talloni Poggio le avambracci Allontana 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 Fronte al pavimento Respira Respira Tre Tre Due Uno E scendo giù Vai Torno E scendo giù Non tocco A terra Vai Fuori l'aria Ancora Tre Fuori l'aria Risucchia bene l'ombelico Attiva l'addome Due Uno Sto qua Salgo il plank Gambe unite Tienilo qui Quattro Tre Due Uno Vado sul lato Vai Tienilo qui Tienilo qui Non mollo Respira Torno L'altro lato Salgo Tienilo qui E torno Ispiro fuori l'aria Scendo Vai Torno Ispiro fuori l'aria Scendo Torno Fluido il movimento Fluido la respirazione Attivo l'addome Tutto il corpo in tensione Quattro Tre Due L'ultimo Rimango qua Tienilo qua Tre Due Uno Torno Vai E giù Posizione del bambino Respira E respiri profondi Due Tre E salgo lentamente In ginocchio Come va ragazzi? Spero che riuscite a vedere tutte Tutte le Le asana Tutte le Gli esercizi Ok Respiriamo Ok Attenzione Morbide le spalle L'addome è sempre attivo Non sto in una posizione Comoda In questa maniera Sono sempre Bella attiva Con i muscoli Morbidi Morbidi Mattivi Ispiro Fuori L'aria Gamba Destra Avanti Piegata Avanti Vado nella posizione Del corridone Vai Tienilo qua Stira Stira bene La gamba Dietro Ispiro Fuori L'aria Salgo In guerriero Due Morbide le spalle Giro la testa Guardo oltre la mano Tieni la posizione Torno Scendo Tira 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 E torno Qui Tutte e due le gambe tese Spingo in alto Qua Il braccio E torna Giù Scendi Torno in corridore Qua Plank Tienilo qui Tieni plank Quattro Tre Due Uno Più dinamico Vai Forza Quattro Tre Due Due Uno Rimango in plank Tre Due Uno Poggio Torno in ginocchio Salgo Respira Tre respiri profondi Tre Due Uno Gamba sinistra Poggio le mani Vado in posizione nel corridore Salgo Salgo Guerriero due Morbide le spalle Non sto così Il bacino all'altezza Delle Delle spalle Tengo la posizione Vai Scendo Tiro Riespirate La respirazione Fluida E profonda Giro la testa Guardo oltre la mano Torno Tutte giù le gambe tese Vai Sto dritta Schiena dritta Risucchia l'ombelico Torno Scendo Qua E vado in plank Sto qua Plank Vai Piano Forza Vai Tienilo Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Quattro Tre Due Uno Attenzione Qua Torno Qua Respirate Fuori l'aria Ispira 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 Ancora Ispira Gli ultimi due Tienilo Vai Tienilo qua in plank Tre Due Uno Salgo Scendo Tira Punto Salgo Salgo Torno Vai Tira Qua Vai Alterno Il ginocchio Non poggia a terra Quattro Tre Due L'ultimo E scivolo giù Mi rilasso Respiro Respira Tre Respiri profondi Vai Due Tre Salgo lento Mi giro Mi sdraio La schiena a terra Schiena a terra Come va Schiena a terra Morbide le spalle L'addome Sempre attivo Porto Le ginocchia Piegate E i talloni Più possibile Vicino Ai glutei Le ginocchia Sono all'altezza Del bacino Braccia lungo i fianchi Ispiro fuori l'aria Spingo Risucchio l'ombelico E questo è il movimento ragazzi Spingo La La parte lombare Risucchiando l'ombelico Attaccata al pavimento E piano piano salgo in bridge Vai Strizzo i glutei Tienilo E scendo Piano piano Snocciano la schiena Ancora Ispiro Fuori l'aria Salgo Strizzo i glutei Scendo Morbido il collo Vai Movimento fluido Respirazione fluida e costante Vai Scendo Snocciano la schiena Vai Ancora Forza L'ultimo rimango Schiaccio Salgo Scosso in bridge Tienilo Attiva bene il gluteo Risucchi all'ombelico Vai Tre Due Uno Alterna Le gambe tese Vai Su Vai Tre Tieni sul bacino Uno Attenzione Scendo Salgo Salgo Scendo Salgo Vai Salgo Quattro Salgo Tre Salgo Due Rimango su Chiudo Le gambe Attaccate le ginocchia Sto su Strizzo il gluteo Risucchio l'ombelico Respiro Salgo Scendo Ancora Vai Le ginocchia Le ginocchia sono attaccate Vai Su Giù Su Giù Quattro Tre Due Due L'ultima Attenzione Su Vai Spingo Sfiora il palimento Sfiora il palimento Vai Su Il bacino Vai Tre Due Uno Vai Piccoli Piccoli Quattro Dai Tre Tienilo su il bacino Ultimo Qua Cambio Su e giù Vai Torna Sali Quattro Tre Due Uno Attenzione Qua Scendo Piego Scendo Vai Quattro Tre Due L'ultimo E piccolo ancora Dai Tienilo Sul bacino Quattro Tre Due Uno Isometria Tienilo su Tre Due Uno Braccia dietro Respira Sto sulle spalle Non sulla cervicale Non gravate sul collo Sto sulle spalle Appoggiata Quattro Tre Due Uno Sulle braccia Sto su Tienilo Tienilo qui Vai Scendo Vai Tieni su Quattro Tre Due Uno Vai Snocciolo la schiena Lento Torno Giù Gambio al petto Tiro Respiro Vai Respira Recupera Tre Respiri profondi Due Tre E tre Ode Adesso saliamo Andiamo in piedi Come va? Come state? Andiamo in piedi Lentamente saliamo Saliamo lentamente Su Faccio un bel respiro Su le braccia Vengo su con le braccia Sto morbido Col collo Le spalle Ispiro fuori l'aria Salgo Su Tienilo qua Per tenere la posizione Dobbiamo fissare un punto In maniera tale che riusciamo a tenere l'equilibrio Ispiro fuori l'aria Appoggio la caviglia Sul ginocchio E scendo Vai Tienilo qua Ispiro fuori l'aria Su Scendo in posizione La brighiera E torno lento Qua Tienilo Fuori l'aria L'altra gamba Su Apri morbido il collo Fissa un punto Trova l'equilibrio Vai Scendo La caviglia sul Ginocchio Tienilo Vai in posizione della brighiera Tienilo Scendo Lento Respira Fuori l'aria Torno Vai Su Scendo Ispiro giù Qua Scendo E torno E torno Scendo giù 3 2 1 Piega le ginocchia Tieni la posizione Attiva l'addome Tienilo qui Ispiro fuori l'aria Vai apro Tienilo qua 4 3 2 1 Torno Toggio le mani Salgo Salgo Apri Apri Fuori l'aria Spingo Fuori l'aria Spingo Innes Vai Fluido Costante Il movimento Attiva l'obbligo Dell'addome 4 3 Respira 2 1 Torno Qui Ispiro fuori La schiaccia La schiena Guarda a terra Risucchio l'ombelico Tienilo qua Ispiro fuori l'aria Caviglia Cambio Tienilo Di nuovo Le braccia Le mani A terra E torno giù Vai Torno giù Tienilo squat Respira Tienilo qui Su Tienilo Schiaccia la schiena Tienilo 3 2 1 Salgo I palmi delle mani Sono rivolte Verso il soffitto Ispiro fuori l'aria Scendo Schiaccia bene la schiena Dai Ispiro fuori l'aria Fluido Il movimento Dai Fuori l'aria Ispiro Dai Ancora 2 E l'ultimo Avanti Tienilo qua 3 2 1 Apro E torno Chiudo Scendo Vai Torno Apro Torno Scendo Torno Apro Respira Torno Scendo Torno Apro Torno Torno Scendo E salgo Sul lento Respiro Spingi in alto Spingi spingi le braccia in alto Cresco E vado dietro Non spanciate Non spanciate Attivo l'addome E torno Respiro fuori l'aria E scendo giù E scendo giù Morbido 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 Il collo Abbandono le braccia Abbandono le braccia Via 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 Piego le ginocchia E torno a terra Mi sdraio nuovamente Gambe al petto Respira Tre respiri profondi Uno Due Tre Ancora Respira Tienilo qui Porto le gambe A tavolino Alle ginocchia Sono all'altezza Del bacino Apro le braccia Ispiro fuori L'aria Schiaccio Le spalle Sul pavimento E guardo Nel lato opposto Respira Tienilo Ispiro fuori L'aria Torno Schiaccio Schiaccio Bene le spalle Schiaccia Schiaccia Le spalle Respira E torno Attenzione Lo facciamo Più complicato Ora Più complesso Su A 90 gradi Scendo Rimango Qua A metà Piega Stendi Tienilo qui Vai Quattro Tre Tre Tiro 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 Chiudo Chiudo Apri Vai Quattro Tre Due Uno Salgo su Erika Vai Gambe tese Vado Vado in Vado in Aelica Contrago Bene L'addome L'addome Su Cambio il giro Forza Quattro Tre Due Uno E ancora Pieda a martello Scendo Spingo Giro Bene I talloni Si guardano Quattro Tre Due Due Uno Torno su Scendo Se la devo la schiena Ancora Su Vai Respira E rimango qui Respira Tre Due Uno Vai Massaggio Te anche Cambio il giro Ancora Tira 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 E salgo su In Giro Incrocia bene le gambe Sto dritta con la schiena Spalle sempre morbide Ispiro Fare l'aria Scendo Mi allungo E salgo su E vado di lato Mi allungo E torno su E cambio Cambio in croce Ispiro fuori l'aria Scendo E torno E di lato Scendo 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 Respira E torniamo E torniamo Nella posizione iniziale Morbidi 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 Respiriamo profondamente Spendere Spendere Respiri profondi Due Tre E giro il collo Giro 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 il collo E cambio Giro E guarda Destra e sinistra Lentamente Morbidi Le spalle Respira E avanti Mento allo sterno Respira fuori l'aria Salgo Scendo Salgo Ispira fuori l'aria Mento allo sterno Scendo E ancora E fuori l'aria E lentamente Vengo in piedi Salgo in piedi Molto lentamente Lento 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 Snocciolo la schiena Piano Piano Faccio un bel respiro Tiro 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 Mi allungo E fuori l'aria E ancora una Salgo 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 Mi allungo E fuori L'aria E grazie Grazie ragazzi Bravissimi Beh Io ho sudato Non so voi Ma è stata Anche Insomma Una bella Una bella Faticaccia Perché sembra Che Che Lo yoga Non sia Dinamico Ma anche Le asana Di yoga power Insomma Di altri tipi di yoga Sono piuttosto Dinamici Perché bisogna Tenere le posizioni Bisogna tenere Tutti i muscoli Assolutamente In isometria In isometria In contratti E sono posizioni Che ci rafforzano Tantissimo Il nostro scheletro Il nostro corpo E tutta la nostra muscolatura Quindi è super consigliato E questo è molto dinamico Perché ci sono anche appunto Una parte di fitness Come avete potuto vedere Quindi per chi non è amante Della meditazione È un ottimo modo Per fare yoga Bene Sono contenta Che siete sempre tanti Sono felice di questo E noi ci vediamo Prossimamente Tanto vedrete sempre Le nostre locandine Quindi non Non vi lasciamo mai da soli Un abbraccio a tutti E una buonissima domenica sera Ciao Ciao